buongiorno a tutti questa mattina direzione belvedere sto andando a prendere la metro mi sono appena svegliato sono le 9 siamo super puntuali questo belvedere mi sta piacendo un sacco non lo so sarà il sole la bella giornata è uno spettacolo qua veramente veramente bello allora ragazzi ho preso il ticket per andare a vedere il bacio di Klimt soltanto che stavo camminando quindi sono venuto nell'edificio nel lower building come dicono loro e invece il bacio di Klimt sta nell'upper building che è quello da dove sono entrato in poche parole quindi ora sto riandando lì e vediamo sto bacio allora si è fatto mezzogiorno io sto andando verso un ristorante che mi hanno consigliato i miei che ci sono stati già qua a Vienna e niente fa caldissimo il museo era bello vedere però io sinceramente non ci capisco niente d'arte ma penso che pure gli altri che fanno finta di capirci non ci capiscono manco loro perché non può essere che tutta sta gente capisce d'arte oppure è interessata anche ai quadri dei pittori sconosciuti ragazzi la cotoletta era ottima veramente buona sono due giorni che mangio il maiale e sto diventando un maiale pure io però ci stava insomma era da provare adesso sto andando da Auvasserlaus una cosa del genere non so è una casa tutta colorata grazie 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 ed è vero che te va in cui non quello cham DIY voi non dai portare una donna in viaggio che è io per te è riusque la donna che può i'ho E la devo pure capire io Olè, spazio temporale, sono in hotel Sono scappato in fretta e furia perché ha cominciato a tuonare forte E adesso sta anche piovendo Quindi per evitare di prendere l'acqua sia io che la macchinetta Mi sono dato decorsa Allora, torta Sager La Sager com'era? Era buona Anche se a me tutta quella cioccolata insomma non ha fatto proprio impazzire Però per fortuna c'era la panna che smorzava al punto giusto Sono tornato in hotel, adesso mi sono anche comprato la cena Stasera abbiamo pizza e un po' di ananas C'avevo anche il centrifugato di carota Ma me lo so scolato subito E niente Allora, domani ultimissimo giorno Ci è rimasto da vedere Prater e Schombrun Speriamo che il tempo sia migliore di adesso Perché qui è tutto grigio Sta pure pioviccicando ancora E niente Ci sono rimaste queste ultime due cose Quindi domani ultimo giorno a Vienna E la sera si riparte subito Prossima destinazione Chi lo sa? Nel frattempo vi saluto Vi ringrazio per aver guardato il video E ci vediamo la prossima volta Ciao Ciao